Un uomo è rimasto ferito nel pomeriggio di giovedì in un incidente avvenuto sulla 13. Era alla guida di un camion che si è arrovesciato in maniera autonoma dopo che il conducente ne ha perso il controllo. Il sinistro si è verificato 500 metri prima dell'uscita del casello di Monselice con direzione Bologna. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo il cui carico di materiale edile è finito disseminato lungo la careggiata, mentre il conducente è stato preso in cura da personale del suo M118 per essere portato in ospedale. Sul posto presente personale ausiliario di autostrade e polstrada. Durante le operazioni di soccorso il tratto tra Terme Eugane e Monselice è stato chiuso.